Tanti auguri a Maria Suelotto, originaria di Tezze sul Brent, ospitata alla residenza per anziani San Pio X di Cartigliano, che proprio oggi, 24 dicembre, ha spento ben 100 candeline. Circondata dall'affetto e dagli ospiti degli operatori della struttura, ha festeggiato il prestigioso traguardo e per lei, assieme alla torta, un dono speciale. Dai due sindaci di Cartigliano e Tezze, 100 rose rosse, simbolo di vita, energia e passione. Grazie a tutti.